Dopo il vertice di ieri del centrodestra a Pescara, trovata la quadra per la nomina degli enti strumentali della regione, l'Ersi, che era conteso tra Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, andrà a noi moderati. Per quel che riguarda le nomine in generale, la fetta di torta più grande del 50% è di Fratelli d'Italia, Forza Italia il 25, la Lega il 20, il 5 e il partito di Tancredi. Oggi, ultimo passaggio, tocca al presidente Lorenzo Sospiri ricevere le deleghe nel primo pomeriggio dopo la capigruppo e fare i decreti. Patto per l'Abruzzo, intanto, ha diritto a 14 posizioni nei CDA, che saranno di controllo. Le forze politiche del Patto per l'Abruzzo hanno individuato, all'interno dell'elenco che si è formato con bando, hanno individuato delle professionalità da chiamare per ricoprire quegli incarichi in qualche modo di controllo rispettano alla minoranza. Dico di controllo ovviamente in senso improprio perché stiamo comunque immaginando delle nomine nei vari consigli di amministrazione. E sulla base dei criteri di professionalità, di territorialità, di condivisione dei progetti, ne sono stati individuati dei candidati. Domani intanto c'è il Consiglio regionale con le nomine nelle cinque ATAR, le tre ATAR, i consorsi di bonifica con esclusione dell'Arap commissariata. Ricapitolando, a Fratelli d'Italia vanno le ATAR dell'Aquila, Teramo e Chieti, Lazio di Teramo, l'Arap già commissariata, Abruzzo Progetti, Sangritana, Difensore Civico, Istituto Zooprofilattico, Istituto Agroalimentare di Cepagatti, Azzenzia regionale di protezione civile e Saga. Forza Italia avrà ATAR e Azzo di Pescara, TUA avrà il subcommissario Arap, Areacom, Garanze Infanzia Detenuti e Corecom. Per la Lega invece FIRA, ARTA, Arap Energia, Agenzia Sanitaria regionale avrà l'altro subcommissario Arap, l'ATAR di Lanciano, Lazio dell'Aquila e la società di trasporti Cerella, compartecipata di TUA. L'ERSI, come detto, vanno ai moderati. Questo è il quadro. Sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro, nel senso che probabilmente abbiamo avuto necessità di un po' di tempo in più, però fondamentalmente il quadro che abbiamo composto è un quadro assolutamente soddisfacente, non solo per noi, credo per l'intera coalizione, ovviamente non abbiamo e non si è parlato solo di numeri o di posti, ma si è parlato anche di figure, di capacità, di curriculum, quindi io credo che il lavoro che abbiamo composto in questi mesi sia un lavoro che tiene conto della dignità di ogni forza politica e anche della capacità di individuare persone in grado di ricoprire il ruolo all'interno degli enti strumentali della Regione.